Ciao a tutti, sono Calendula, o meglio Elisa Dorie, questo è il mio nome da umana, questo è il mio agriturismo, Genuinus, sto andando a raccogliere le erbe per la cena di questa sera. Ora raccoglieremo le rose che ci serviranno come decorazione e come condimento all'interno dell'insalata che offriremo come antipasto, un'insalata di fagiolini e di patate. Sono molto delicate, aromatiche, profumate e belle. Ciao, sono Elisa, Calendula, i fiori della piantaggine, del garofano del poeta, le rose, eccoci con le margherite, salvia selvatica, silene, il nasturzio, con la melissa, la verbena, la menta arancio. Erbe in bocca a tutti ragazzi! Grazie! Grazie! Grazie!